buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti al vostro oracolo angelico giornaliero andiamo a vedere quali sono le carte di oggi ecco la prima oggi vanno per i fatti loro queste carte questa è voluta uscire ok la teniamo e allora ce ne manca solo una adesso quindi prendiamo l'ultima carta ovviamente ragazzi per avere una sessione privata con me sapete cosa fare o andate sul sito internet o andate sul sito internet o inviate un'e-mail per diventare miei studenti di tarologia, magia d'amore, telepsichia, psicologia karmica ed energetica o andate sul sito oppure inviate un'e-mail ad Angela lei è tanto paziente e risponde a tutte le vostre domande però ecco il programma dei corsi lo potete già vedere sul sito i costi li vedete sul sito e la stessa cosa vale per le sessioni private e i pacchetti disponibili che mettono insieme coaching, analisi karmica, tarocchi eccetera dunque vediamo un po' abbiamo un appeso rovesciato la carta degli amanti e il cavaliere di denari perché non siamo pronti ragazzi? perché non siamo pronti? perché qui non siamo pronti? non siamo pronti eppure dovremmo essere pronti perché in fondo è da un po' che va avanti sta storia cioè obiettivamente guardiamoci in faccia o meglio no, non ci possiamo guardare in faccia perché voi non vedete me in questo video e io non vedo voi però guardatevi voi in faccia allo specchio guardatevi lì nello specchio e domandatevi perché non sono pronto? perché non sono pronta? che cosa mi manca? che cosa sto aspettando? perché il punto è proprio questo che cosa state aspettando a decidere? l'appeso lo dice l'appeso è un l'appeso è un mettersi a testa sotto voi siete a testa sotto è come se da un po' di tempo voi foste a testa sotto e state guardando il mondo proprio da questo punto di vista da questa prospettiva rovesciata che in teoria dovrebbe aiutarvi anche perché stare a testa sotto stare a testa sotto fa andare il sangue al cervello quindi magari a lungo termine fa male ma all'inizio fa anche bene stimola certe zone nervose stimola, porta ossigeno al cervello porta sangue al cervello però al di là di questo per carità fa anche male poi vi racconto una storia privata una storia privata che riguarda i tempi di guerra della seconda guerra mondiale della mia famiglia il mio bisnonno sì perché era il padre di mia nonna il mio bisnonno in tempi di guerra è stato appeso a testa sotto dai banditi quindi e poverino niente a ridere perché vabbè ormai questa è una storia che nella mia famiglia si conosce sulla quale l'abbiamo elaborata e quindi possiamo anche scherzarci sopra però è stato da quel momento in poi si è ammalato perché è stato tutta la notte a testa sotto però però ragazzi però sapete una cosa che comunque lui quella notte è riuscito a salvare sette figlie e una moglie cioè è stato un grande il mio bisnonno perché è riuscito a tenere al sicuro la sua famiglia e proteggere le otto donne della sua famiglia lui era l'unico uomo e vabbè quindi ha fatto un sacrificio però è proprio un classico esempio di di uomo con le palle che che mette al primo posto la sicurezza della sua famiglia e allora noi siamo a testa sotto a testa sotto come abbiamo detto ci arriva il sangue al cervello oltre a vedere le cose eh sotto sopra e quando ci arriva il sangue al cervello in teoria dovremmo un pochettino dovrebbe arrivare un po' di ossigeno anche ai più anche ai più tordoni ai più testardi dovrebbe arrivare un po' di di ossigeno in più ma infatti a parte gli scherzi se voi guardate questa carta notate questo alone questa aureola attorno alla testa giallo dorato questa è una reola che nel mondo esoterico non solamente in questa lama di tarocchi ma in generale nel mondo esoterico è un tipo di disegno di iconografia che viene utilizzato per rappresentare il corpo mentale dell'essere umano quindi la quel corpo energetico o almeno una parte del corpo energetico che noi utilizziamo per pensare quindi siamo in una posizione nella quale siamo spinti in un modo o nell'altro a pensare l'universo ci sta tenendo lì in qualche modo dove siamo per riflettere per pensare e per pensare appunto a testa sotto cioè l'essere bloccati lo scopo di essere appesi è proprio questo nessuna carta sta lì nessun archetipo sta lì per darci fastidio noi molte volte vediamo l'appeso e pensiamo che palle perché abbiamo subito immediatamente l'idea del blocco l'idea della dell'impossibilità di muoverci ed è vero sì la parte di noi più infantile pensa che palle ma la parte più la parte più matura di noi dovrebbe riconoscere che c'è un motivo se siamo lì bloccati e dovrebbe capire perché qual è lo scopo dell'essere lì bloccati in quella posizione a che ci serve tutto questo sangue al cervello cosa ci deve fare vedere cosa prova per me mi cercherà impara a leggere la sua mente con il metodo Maya iscriviti ai nostri corsi e visita il sito internet www.vocidagliangeli.com cos'è che dobbiamo capire che non vediamo che non capiamo ma non siamo pronti come vi dicevo perché la carta degli amanti è al centro e la carta degli amanti parla di scelta perlomeno per me con il metodo Maya con il metodo psicoevolutivo la carta degli amanti parla di scelta parla di decisioni da prendere parla e guardate qui studenti vi aggiungo una cosa che nei corsi forse non ho messo del nostro aspetto femminile e del nostro aspetto maschile che insieme devono prendere una decisione con l'aiuto di cosa dell'angelo della coscienza divina coscienza divina che unisce diverse parti di noi che sembrano separate è un po' come quando noi sappiamo benissimo di essere un po' dissociati noi sappiamo benissimo che magari un giorno pensiamo in un modo un altro giorno pensiamo in un altro modo cambiamo idea e quindi ecco siamo entrambe queste idee non è che siamo pazzi è semplicemente che come dice Pirandello siamo uno nessuno centomila in base alla circostanza nella quale ci troviamo l'essere umano è fatto così è fatto da tante personalità ciascuna delle quali esce fuori in una condizione in un contesto differente quindi ecco che questa carta e qui vi sto dando appunto un significato che non ho messo credo nel videocorso di primo livello questa carta mostra anche l'aspetto femminile e l'aspetto maschile di ogni essere umano che a volte sono in contrapposizione fra loro l'aspetto femminile è quello più sensibile e l'aspetto maschile è quello più invece più diretto deciso duro e con l'aiuto della coscienza divina noi cerchiamo di mettere d'accordo queste due parti per raggiungere una decisione cos'è che ci ostacola? la nuvoletta questa nuvoletta grigia questa confusione mentale questo filtro che ostacola la coscienza divina e impedisce la coscienza divina di raggiungerci in modo chiaro e diretto altrimenti saremmo tutti dei guru illuminati che non siamo però come carta finale abbiamo il cavaliere di denari rovesciato quindi non va qualcosa che non parte qualcosa che non parte perché appunto non siamo in grado di farla partire è nell'aria in realtà è lì sta lì cioè questo qualcosa noi dobbiamo farlo partire ed è pronto a partire e lo farà prima o poi ma non ancora non siamo pronti oggi o nei giorni attorno ad oggi non siamo ancora pronti al 100% cosa gli angeli ci dicono riguarda questo che cosa hanno da suggerirci o da mostrarci prendiamo una carta e vediamo un po' dunque 8 d'aria eh sì è una sensazione ragazzi è una sensazione noi abbiamo la sensazione a volte di essere in trappola e di non potere decidere ma non è vero è solo una questione di insicurezza di mancanza di fiducia in noi stessi o di paura ad agire perché sono più le paure che ci bloccano e l'appeso parla chiaro poi guardate quando ci sono l'appeso e l'otto d'aria cioè l'otto di spade in un'unica stesa veramente il messaggio è chiarissimo siamo noi che siamo tordoni e teste dure siamo noi che non vogliamo vedere la luce in fondo al tunnel siamo noi che non vogliamo trovare le soluzioni perché abbiamo questi preconcetti questa rigidità questa tendenza a vedere le cose sempre in un modo senza cambiare idea senza essere flessibili ma dobbiamo semplicemente essere più flessibili superare un po' le paure ad ogni modo io vi invito ad andare sul sito o inviarci una email e ci vediamo a domani a domani Grazie.